Ad aprile il Movimento 5 Stelle è stato il primo a chiudere e presentare l'intero programma elettorale per la città di Como. Ora è la volta dei singoli punti e tra questi ne spicca uno presentato pubblicamente ieri sera, il bilancio partecipativo. Il bilancio partecipativo è una forma di inclusione, serve per mettere in campo la cittadinanza per poter decidere su temi importanti, su delle azioni specifiche da realizzare nel quartiere, su delle opere importanti per i cittadini. È uno strumento anche per permettere ai cittadini di riavvicinarsi a quella che è la macchina comunale amministrativa. Come si fa però a scegliere quanti soldi dare e quali progetti selezionare? Sì, ovviamente in un bilancio di un'amministrazione ci sono dei costi fissi su cui non si può andare a discutere, come possono essere gli stipendi eccetera. Nelle altre parti del bilancio si possono destinare appunto dei fondi per queste opere. Di solito vengono utilizzate delle piattaforme online o anche delle schede per raccogliere quelle che sono le informazioni dei cittadini e poi si prosegue con delle votazioni in modo da avere i progetti vincitori, quelli che hanno quindi avuto più consenso da parte dei cittadini. Il processo di scelta dei progetti per la città e per i suoi quartieri però non può prescindere dal ruolo del Consiglio Comunale. Il Consiglio dovrebbe andare a decidere su delle proposte vincitrici per appunto riqualificare magari un quartiere, una zona, un parco, comunque fare degli interventi che i cittadini sentono come primari.